La soddisfazione della nomina continua a moltiplicarsi ogni qual volta cittadini, artisti e autori confermano la loro fiducia dichiarando piena collaborazione al progetto. Lo afferma il sineco di Vibo Valencia, Maria Limardo, in merito a Vibo Capitale Italiana del Libro 2021. Grazie al supporto della cittadinanza e delle associazioni, il programma di Capitale del Libro 2021 comincia a prendere forma declinandosi in settimane dedicate a singoli temi, trattati attraverso presentazioni di libri, recital e serate musicali incentrati su un cantautore, un autore, un'atmosfera anche in modo indirettamente riconducibile alla promozione della lettura. Dal 16 luglio alla settimana della legalità aprirà l'anno del Libro a Vibo Valencia. Ai nostri microfoni il sindaco Maria Limardo. Vibo Valencia, città capitale italiana del Libro per l'anno 2021. Per quest'estate abbiamo messo su una kermesse incredibile che tocca tutta l'estate, quasi tutti i giorni e quindi vi aspettiamo numerosi nella mia città, Vibo Valencia, Vibo Marina e tutti gli altri paesini di cui si compone.